Domenica 31 marzo si corre simultaneamente in 34 città italiane e 11 all'estero e lo si fa per ottime cause. L'inistitiva WISP coinvolgerà migliaia di persone. Gigi Cavone. L'uguaglianza è in gioco. Si corre con questo slogan l'edizione numero 36 di Vivi Città, la più famosa corsa internazionale in contemporanea che dall'84 a oggi ha fatto scendere in strada quasi 2 milioni di persone. Domenica 31 la giornata clusi correrà in 34 città italiane e in 11 straniere in Bosnia, Giappone, Svizzera e Angola. Percorsi tutti da 10 chilometri con un calcolo dei coefficienti altimetrici a cura dell'Istituto di Scienza dello Sport del CONI per poter stilare alla fine una classifica unica comparando i tempi ottenuti nelle varie città. Abbiamo fatto diversi calcoli molto complicati ma alla fine hanno portato a elaborare dei coefficienti che consentono, se la precisione del percorso in ogni città è assicurata, di comparare i risultati. Si gareggerà anche in tre penitenziari a Milano, Monza e Catanzaro, una manifestazione da sempre all'insegna della sostenibilità ambientale, della pace e della solidarietà. Non è solo una gara competitiva ma è anche la grande partecipazione di cittadini e di persone, di famiglie nelle percorsi anche non competitivi perché vogliono dare il senso a quello che è lo slogan del Vivi Città di quest'anno, l'uguaglianza è in gioco.